a me a me uno io io non l'ho pagato uno perché me l'ha regalato familei vuoi mettere cosa voglio mettere è che non l'ho pagato a uno dove lo metto però da nessuna parte è mio hai detto tu vuoi mettere è vuoi però non puoi ah ok ok stupido cazzo è vero ma il pescara comics ancora questo cazzo di pescara comics perché non ci siamo ancora andati perché pescara non ci vuole bene ma non ci ha mai chiamato domani domani scrivo una lettera indignata al sindaco di pescara ma vabbè ragazzi ma io odio questa cosa ma quanti pescari passaggi sto facendo l'altro giorno parlando di comics e tutto quanto c'è i gestori c'è gli organizzatori del napoli comic con organizzano anche quello non mi ricordo se di bergamo di bologna e era nata tutta una questione con ragazzi di interi che stavano parlando del fatto che dovrebbero chiamarlo il comic con di napoli però di bologna scusa se tu tu andresti tipo al napoli comics però a bologna c'è bellissimo è bellissimo com'è no 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 napoli comics a bologna oddio una musica fortissima di uno nelle orecchie di chi è di chi è scusa basta mi basta questi giochi sono così aggressivi nei miei confronti perché la musica mi si è aperto uno sul terzo schermo quello in verticale ma io non posso vivere così ma come faccio a giocare è tutto stracciato scusate vi mando una foto perché è degno ok nel mentre ci switch in gaming trio vertically come posso vivere in questo modo è un po leggere calabria in giro per milano calabria ha sponsorizzato la pista di patinaggio a milano sembra una cosa corretta cos'era mai design oh ce l'ho fatta musica zero meno di zero allora oh per dio ok ci sono ci sono ah io il mio polso raga no tu sei rilotto tu sei rilotto il polso è andata così raga no vedi che l'ho sforzato troppo oggi non sforzare il tuo polso sai cosa ti sforzo bertra ho messo una cosa che tu ti ricordi molto bene no leoni mica non hai fatto quello ho fatto quello ho aggiunto pesca strascico niente totta niente di che niente di che non è nulla di che fidati no no tranquillo bertra come faccio perché non posso invitarti non lo so siamo amici dentro sì ti vedo anche a fango eccolo qua ok adesso bisogna capire l'amicizia con totta non puoi da da steam tu sai che non penso totta tu da steam puoi unirti la mia fammi vedere totta tac oh raga io sono felicissimo perché oggi mi è arrivata la mia frigitrice no non ti vedo frigitrice immersione totta tu mi devi ancora dare la tua frigitrice ad aria tu devi venirti a prenderlo ho capito vuoi anche una sega sì ho invito a guardare per totta e basta come come ti chiami totta sul coso come ti chiami tu ti sto aggiungendo fango 17 oppure ah no è fang 017 fang maiuscolo 017 non mi fa scrivere ok come ti chiami tu sei per caso non sono axel o sei già come insano totta lotta totta lotta totta lotta non esiste totta lotta ma l'ho fatto ero racconto sì che esiste totta lotta a vedere carlotta 00 trattino basso ah giustamente leo mi fanno notare che non esiste l'amicizia tra uomini e donne per questo che non riesci ad aggiungerla ah ok ok è carlotta 00 trattino basso essendo tu una femmina io in questo momento voglio fare sesso con te per questo ti ho mandato una falsa richiesta d'amicizia ok bene io te l'ho accettata in modo sicuramente serio ok ora puoi dirmi che sono come un fratello per te sei il miglior fratello che io non ho mai avuto ti hai anche invitato eh dove lo vedo questo era in alto a destra e è comparso anche a schermo mi sa che l'hai gravemente ignorato e la rimando è arrivata? no hai accettato la mia richiesta d'amicizia? sì ok c'era a sinistra quando te la mando scusa prima c'era un'accetta prima da qualche parte quando hai visto il mio nickname ah ok grazie voto cosmico per il nono mese prova in alto a destra forse sul tuo profilo che cazzo è? io sto continuando a mandarti totta non compie l'atto della vista come si apre l'overlay di Uplay? boh adesso ve lo dico io ti ho mandato un messaggio dimmi se ti appare da qualche parte sto entrando shift f2 ok sto entrando mi dà caricamento è stato un bel messaggio grazie gli ho scritto un ehi ciao babbolina vuoi giocare con me a un'amica a un'entusiasmante partita di uno? non posso unirti perché non è più disponibile è stato raggiunto il numero massimo in giocatori ma non è vero è una menzogna siamo in due vabbè rifazzo la lobby va bene rifai la lobby la rifazzo uno classico questo è lo scherzo mio rifiuto la vecchia che brutta frase devi accettarla la vecchia tac e tac ma date le richieste accetta caricamento ok il cosa di alta f4 fa molto ridere che c'è il gioco nuovo con gli alieni pistola che è molto ah si quello dei creatori di ricche morte si c'è una schermata in cui c'è una porta c'è scritto per aprire questa porta premi alta f4 si l'ho visto lo screen non puoi intanto non riesce perché non è più disponibile perché sono raggiunto il numero massimo di giocatori ma prova a riavviare il gioco magari hai paghato qualcosa prova a farla io ok anche se le regole che devi mettere sono ribattere e pesca strascico si aspetta che mi sa che manco mi fa entrare nella mia ma allora è proprio il tuo che ti dice sono io problematica ragazzi sono sempre io ma ci piace è il solito millennium bug grazie Gio per il ventitresimo mese allora uno classico my design contenuti aggiuntivi uno classico si uno classico si no 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 mi stavo entrando in una castanza come faccio a farla io scusa crea una scusami sono stupida sono stupida ho fatto la donna ho fatto la donna ho fatto la donna ho compiuto l'atto di essere una donna ok basta e compiuto la femminilità ho compiuto la femminilità e questa cosa mi strugge ogni istante della mia esistenza ma raga in chat le nostre mezz'ore di pre-live sono belle per questo perché stiamo insieme e ci vogliamo bene ma si è più tipo nell'arte fanno il just chatting per parlare iniziare la live in realtà facciamo il preparazione videogioco cioè proprio nella nostra nella nostra tabella round singolo 200 300 500 round singolo ribattere si si e poi tutto quello a destra pesca strascico nessuna bella maglietta che hai ti piaccia molto bella 7-0 anticipa il gioco no no solo solo quelle due ok ok invita amico invita a giocare poi mi devi invitare tu Leo si Bertra come ti chiami? beh cazzo ne so Bertra aspetta eh profile mi chiamo Bertra xd ladri perché questo è tipo il mio terzo profilo di Uplay ed è quello sbagliato perché non mi aveva connesso uno a questo ma cioè non a quello originale ma a questo non so perché molto tristemente oh sono dentro totta ti ho accettato totta fammi entrare dentro di te adesso ma qua gioco con il mouse o con la testiera mouse ok ma puoi tenerlo anche con la sinistra si si no era solo per dire se posso spostarlo se poi c'è Fanto che ha il mouse da mano sinistra magari te lo presta Fanto è l'unico mancino inizia partita? si che conosco che usa il mouse con la sinistra e la tastiera con la destra che cosa matta si cioè fuori di testa non è normale se sei mancino scusa no perché anche i mancini lo tengono comunque cioè l'impostazione è sempre quella no vabbè ma c'è la IA festosa dove posso mettere la le cam ma in realtà lascia le sopra Bertra sopra si o da o di lato o sopra dall'altra sopra IA festoso è vero ah toccava a me metti la destra sopra IA festoso che tanto non piange ma c'è la IA che brutto eh sì perché te lo mette sempre in automatico uno ok aspetta che scusami devo coprire la cosa di TOT altrimenti vedo le sue carte ok ah oddio è vero non c'ho neanche fatto scusa no voglio vedere già la lasciata lato ti ho solo coperta se fai pop up ciò vabbè t'ho coperta t'ho coperta ah che bella gioco rilassante di uno l'importante è che sia uno e non due perché ma perché voi due avete un'immagine se tu hai appena fatto anche il profilo TOT perché ovviamente ha usato il suo tempo extra per metterla ah sì perché è la pesca strascico finché non prendi una carta finché non prendi una carta che puoi buttare continuerai a pescare ma che cazzo dici sì no vabbè andate un affanculo tutto it's morbing time ragazzi che bella la pesca strascico ma che inculata no vabbè raga ma che merda ti piaccio Totta guarda che non devi collezionarle le carte devi buttarle giù sì infatti andate bene tutti affanculo Totta 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 devi metterle giù non prenderle ragazzi ma vi prego ma che inculata allucinante ma ragazzi ma è bruttissima questa cosa più due o no e ok non se le prende se lo suca se lo suca violentemente c'è ancora il lottare contro il più due te lo ricordi quello che puoi dire se la carta è falsa o meno sì 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 che cazzo era non mi ricordo se la carta è falsa o meno sì c'è tipo una regola che se io butto il più due tu puoi lottarci Totta Totta devi metterle giù tu puoi lottare contro il mio più due ma tu sei pazza godo 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 il godo il godopoli tipo questa posso sfidare o rinuncia faccio sfida così vedo le carte di Totta madonna se ne hai carte ebbè perché cos'era questa cosa cosa hai fatto scusa ho sfidato il tuo più quattro perché ho detto secondo me Totta poteva mettere qualcos'altro oltre il più quattro quindi se ho ragione io peschi tu quattro carte se hai ragione tu ne pesco io sei ma cos'è questa giga inculata scusa è tipo una regola di uno strana quelle che mettono loro che gli piacciono porca di una puttana vi odio più quattro bertra siamo tornati tutti più o meno alla pari ma guarda quattordici è vagamente il doppio rispetto a noi però più o meno alla pari ok ah si leo metti un 9 giallo ah si anch'io non ti azzardare eh l'ho fatto ormai però io ti taglio le gomme dell'auto come in viale corcico non ti permettere mai più di farlo avete visto a Milano che ci sono adesso gli ambientalisti che tagliano le gomme dei SUV si ho notato questa cosa mi ha fatto vedere i snuffed boys i snuffed 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 io vorrei giocare anche totta c'è non so è il secondo turno che mi fai saltare tu rogna comunque tra di noi chi sta vincendo è il bot è il bot si se vince il bot mi metto a piangere giallo porca puttana vedi vedi totta brava tu mi fai giocare anch'io ti faccio giocare ti odio tutti ok posso ok perché era tutto così bloccato non mi faceva giocare non so totta no cosa succede totta no vai vai giallo come la totta non ha il giallo perché è Berta che ha il giallo è demonetizzato demonetizzato sta davvero vincendo il bot raga non so come dirvelo gioco la carta e metto un giallo cosa vuoi fare totta sfidare e dire no tu questa carta non potevi metterla oppure si avevi ragione prendo la mia penitenza posso rispondere col più due no al più 4 no al più 4 solo col più 4 oh porca puttana vaffanculo vabbè è ovvio sfidalo il bot ha più punti il bot ha più punti battati su di lui rispetto a me ma come vorrei dire che il bot sta vincendo quindi abbiamo poco da infatti non è molto divertente questa cosa io letteralmente 10 carte in più rispetto a Leo no vabbè 17 il mio numero porta fortuna no vabbè 17 demonetizzato pesce siruro no dai no aspetta ho messo in più due che ne avessero anche Bert così questo cazzo di IA magari non vinceva oh porca di una merda quando stai sfidando un IA ma è chat GPT godo bastardo bastardo il poderoso godopoli ok 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 vai ok ok non facciamo più giocare il bot vai vai mi piace mi piace Berta giochiamo io e te vai non posso mettere giocare ok I'm blue da buddhi da buddù ah fuck vai Berta continua un altro un altro non possiamo più giocare mi dispiace la mamma ha detto di no mi dispiace perché dai devi fatti i compiti no scusami la mamma ha detto che non possiamo che palle lo so è molto così difficile della mia esistenza ma tua mamma o mia mamma quella della IA la troia è comprensibile oh no vabbè mia mamma che faceva la sfida eh dici non potevi buttare altre carte non sfidarlo perché è palese che l'ha pescata di culo in pratica se lui poteva mettere altre carte oltre al più 4 se le prende lui mentre se il più 4 era la sua unica scelta tu ne prendi di più che palle vaffanculo dobbiamo capire dobbiamo capire che colore gli manca decisamente non il rosso eh io raga qua c'è vabbè che lei ridendo scherzando anche lui non è che nooo ok vediamo forse ha finito il rosso non ha finito il rosso merda fanculo fuck godo godissimo godopoli godopoli ooo gioca che culo oserei dire assume no oh si che culo che c'hai fanculo prank prank john vediamo bastardo oh madonna raga io ho 16 carte cioè ma stiamo scherzando allora non può averne ancora di rosse non può averne ancora di rosse cioè le ha già giocate e te Bertha sta intando Bertha è inta Bertha sta intando la partita Bertha è in combutta con il robot Leo basta mettere carte rosse io ti odio Bertha non ne ha rosse le ho viste oleak quella carta lì che ha lui è verde oh oh grazie Dio bro se è un più quattro bro se questo ha un più quattro Bertha sei una carta verde io ti odio eh tanto è che se è una carta verde ah tanto le pesca vero 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 scusami vediamo se l'è la prima non ha carte oh ok 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 oh ma anche Leo non mi piace come sta giocando qua ma se vinco io va bene se vincere il bot no ma cosa è questa lentezza assurda non lo so a volte proprio dice ok mi piace questo astratto giochiamocela così se io sto appunto mi allevo col bot cioè non lo so qua tutti contro no non mi allevo più questo qua guarda che non so che giocare blu giallo blu ok ok dai 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 abbiamo una buona giornata robot va bene così no no robot va bene giallo va bene giallo blu bello giallo hai un bel blu non dargli blu va bene accetto anche questo aaaaa dovi lasciare giallo totta no non posso finire con la carta speciale fuck godo sono stupido bro bro vai ritiraglielo gol sì sì vai totta ma dai ma pensavo avessi un più due fra ma cosa sì ma sai come funziona questo gioco puoi andare avanti con i più due ho 15 carte ne hai necessità di questa un più due aaaaa 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 prank him john che palle bisogna totta devi tirare le schicchiere in fronte a Leo è l'unica bro non ho schicchiere in fronte a Leo niente schicchiere niente schicchiere dai uomo dai uomo vai così vai uomo bastardo ok godo godo per fortuna per fortuna posso prendere con le carri grazie ok 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 accetto accetto ho pescato due più quattro quindi buono ah madonna ok io festoso ha pescato due carte Ma pensi che questa sia infinita? Allora Perché una volta l'abbiamo fatta in live Io Bertaglia e i noob E abbiamo giocato per un'ora e quaranta Una partita Ma che cazzo Non riuscivamo a finirla Non ce la facevamo più Siamo arrivate una roba imbarattante Come tipo venti carte a testa Penso ci sia ancora sul mio canale Cioè sul canale Ancard degli amichetti Da qualche Ah no sul mio Non è lo stesso Cioè da qualche parte comunque Leo Sai che ti dico io? Sai che ti dico io? Vai sfidami Vai vieni Vieni Ah Ok Almeno so che carte hai Pezzo di merda Lo so Infatti ti conveniva No No Ok Bisogna cambiare il colore ragazzi Perché? Perché? Qual è quella? Perché Leo ha una carta Blu Bastardo Tutto ma non blu Ok È un uno Sì 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 Grazie Totta Vabbè bro Ma ce ne potete sapere? Bazzetti stellari Bazzetti stellari Totta Ah io non ho parole Bazzetti stellari Non ho veramente parole Ah 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 Vergognoso Sono sportissimo Sono felice di essere arrivato Uno Totta intato Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Tu essere Fate un'altra bet Grazie Bot Bot Tua madre Tua madre Fai I rasponi Tutto ci becca un bel più sei Alla chi bro Bertha non ti ascolterò mai più Oh madonna io e il bot siamo partiti proprio con Vabbè dai ma Bertha Full sul fronte di guerra Leccami le palle il bot di merda Noo greve Bertha ha battuto il bot Come sua madre batte i viali Porca puttana Vabbè ha cambiato il colore Nel famoso rosso Di Tiziano Rosso Relativo Rosso Tiziano Famoso pittore di Pieve di Cadore Famoso per le sue tonalità di rosso Di Pieve di Cadore Tra cui Piedi di Cadore Astardi Questo è il karma Il potere Il potere del Sium Fa ridere perché Notta 13 Come gli anni di quel ragazzino Ti ricordi che Al Games Week ci aveva chiesto la firma Sulla maglietta che aveva comprato Molto simpatico Sì Totta mi piace questo gameplay Sai che è divertente Hai un altro? Carino ma lo sai che ci sta? Dimmi invece cosa ne pensi di questo Aspetta che devo ancora arrivare Ok Oh bello Bello mi piace piace Ti è piaciuto questo? Sì Sì però purtroppo Ho finito Ah no 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 Totta Totta Aspetta Oh grazie mille Purtroppo non posso continuare io A questo giro Però è stato molto bello A giocare Allora Io e te dobbiamo allearci Allora Complimenti Bertra Ti due a Bertra È stato molto divertente 9 9 9 9 Corretto 9 9 9 Ma porca puttana Sono colori di merda Ok Ok Wow Ah Gioco la mia carta trappola In posizione di difesa Ok Accetto questa cosa Adesso vince Laia That's the sound of the police Ok ok Mi fa ridere il fatto che ho scommesso su Bertra Pur non credendo realmente che possa vincere Questo gioco è così caotico Che non è che conti Quello che uno pensa purtroppo Non conta quello che vuoi tu Diciamo che la partita di prima era un po' destined Che non avrei vinto bro Ok si deve essere questo Oh oh Sta vincendo da fare il bot raga Sei Sei Non mi piace questo gameplay Sei 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 Porca troia Mi ha infamato bro Oh oh ok Spero del signore Beh Albertra Chiamami signore allora Perché devo pensare No che culo Che culo Eh vabbè dai Vaffanculo Questo è andato a police Questo 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 ha prezzo Cazzo Posso per caso No No il più 4 non puoi Comunque Leo Oh ma ci avete Ci avete un culo sfondato voi Pezzi di merda Scusatemi 100% win rate Che culo Spropositato 100% win rate Mamma mia Scusatemi Scusate Eh sono Sono troppo forte Sono troppo forte Non Leo non è questione di forte È culo Questo gioco di merda Non lo so 100% win rate Non è questione di forte Non lo so Non lo so Che palle Gioco di merda Si vede tu che non sai fare L'apertura siciliana Hai ragione Non ho Mi fa arrabbiare questo gioco Ti dirò Ma non so Adesso non posso Non gioco No non puoi Va bene Giocate voi Giocate voi Va bene Totta rigiralo Cazzo No mi spiace Scusami Non avevo altro Ha usato Ha usato Un cambia colore Per lasciare Non lo so È stato un po' strano Effettivamente Totta Stata tesia Di dare contro di me Non mi piace Te lo dico Te lo dico È una cosa che non No Bertra No non ce l'avrà Palese Bertra Tu sei uno stronzo Una volta Una volta che non avevo tante carte Bro Una volta che non avevo tante carte Grazie Motta Per i dieci mesi Motta ha scritto Dieci mesi Yay Io ho letto velocemente Dieci mesi Gay In che senso Ma dieci mesi è il suo coming out No No Che palle Che bello È come se tutti avessimo appena iniziato Questo è un numero sei Numero sei Ok Ok comprendo Comprendo Anche quello sei Questo è un colore però Questo è un blu Gli piace il blu Lo vuole Ma che gli piace il blu a questo per caso No Attenzione Attenzione Vediamo se Totta fa saltare anche lei Vai Totta Ricominciamo la nostra strata Mi spiace Mi spiace Ti chiedo scusa Comprendo la tua necessità Ma purtroppo al momento Non è esaudibile Dalle mie richieste K delusione K delusione K delusione Allora vediamo se il botta il rosso Infame il bro Blu Bot disse blu Fanculo Allora Se io gioco blu Totta molto probabilmente dovrà giocare il blu A meno che non abbia il stesso numero Però ciò mi dà due possibilità su dieci Però se io gioco il cambio a colori con il rosso Totta sarà obbligata a mettere un rosso Che il bot non ha a sua volta E quindi dovrà pescare Scara Nooo Ha rovinato Bisogna cercare di cambiare colore Bisogna cercare di cambiare il giro raga Più che altro Non ce l'ho Ragazzi è molto difficile questo Mamma mia Ok 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 Sfidate Coglione Ah merda Il godopoli Stupido Estremo godopoli No questo mi dà un più due guarda Ora ti ributta un più quattro Totta La vendetta Ah no ok per fortuna Oh è Leo Non mi piange questa cosa Guarda che c'è Lili Io Totta Giaberta se non sai giocare te Scusa Per favore stai zitto Guarda perché hai parlato Stai zitto Tutto Tutto Totta solo tre carte Ne ha No vabbè Stai zitto Va bene dai Totta Allora lo faccio anch'io Potrei buttare uno zero Però andiamo avanti con la partita Sì potresti proprio Eh vabbè che culo comunque Ma alla fine ne peschi una Cioè quante carte vuoi pescare Una Bro Bro Non avrà un più due Non ce l'ha Non ce l'ha Te l'ho detto Non ce l'ha Non lo sa fare Non lo so fare Ok 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 No vabbè Minchia mi conviene Quella Magari avessi avuto il più No vabbè Ma che cazzo Oh ti prego Godo tantissimo Ho come la fiducia che Totta Non Cioè fosse l'unica carta Che poteva buttare Ho come questa piccola impressione Oh no Ora è il mio turno raga Addio Madonna ma Bertra Io te dobbiamo cambiare gioco Comunque Guarda che tu e Bertra insieme Avete più carte di Federick Va bene Vai Bertra I see you Ehi 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 Oh Perché è così lento Non arriva Non lo so Deve decidere come passare Ehi 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 Così Un po' matto Ok Un po' cambi Cambi il tutto Ma non fare queste cose bruttissime Ok questa va bene Chi da morto In realtà adesso Bertra Tipo il potere Fai conto Prendi tipo Death Note Anime Che tu hai il quaderno Che ha un potere Bertra la reverse card Che in realtà cambia tutto quanto Lui decide una cosa E quando la gioca Ad esempio Tutti gli etero E tutti gli omosessuali del mondo Si switchano Di colpo Oppure tutti gli uomini E tutte le donne Si switchano Di colpo Oppure tutti i cavalli E tutti i passerotti Di colpo Perché i proprio Cavalli e passerotti Di tutte le cose Non lo so Così Tu puoi scegliere due cose Che si switchano di colpo Molto bello Ah dai E viene fuori un anime Bellissimo Oh no Adesso vince Le AI di nuovo Ah si Io faccio questo E poi Bertra decide Di switchare Tra tutte le persone Normali E i pugliesi Di colpo Di colpo Oh ma che cazzo di culo Che c'ha sto bot di merda Totta ti prego Guardi sono annichilita Lascia stare Veramente Una scena dolorosa Non posso vincere io Nooo My man Nooo Ok godo Godo Madonna Così Così Un po' perché sono matto Madonna Guarda che personale Stavolta Penso Vedo Vedo un po' di Non voglio parlare Grazie Dispiace Passatemi in silenzio In questo momento Mi spiego perché Totta non sta parlando Perché ha 18 carte Tenerle in mano 18 carte Con una mano sola Avendo l'altra ingessata È un po' difficile Quindi è un po' presa Bozza è un altro Ma porca troia Che culo sto bot Quando vuoi gioco Dai pesca Pezzo di merda Ma come è possibile Quali sono le proabilità Che lui abbia un'altra gialla 25% Ah tu hai fatto Madonna Porco Sono furioso Questo gioco è una merda Ho ancora 100% Di win rate Degli amichetti Io so già Che stasera Dopo su pokemon Palese Restartiamo 15 volte Io lo so già Io so già Come andrà a finire Dannazione bot Ma sei pazzo Madonna Leo Tu sei veramente Una persona Conostica Poi vince Diventa ricco Aspetta Ok Cosa Ok ok Niente 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 Fatto 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 Scusatemi Due secondi Una cosa Che cosa hai fatto Leo Allora così Ho le carte aperte Perfetto Santissimo dio Ok ok Devo cercare di In qualche modo Fare lo switch di giro Devo fare lo switch di giro Ok Peschiamo 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 Ok Pescara comics Questo qua Lo faccio su Bert Ma serve il blu Io ti odio Blu bello In un modo incredibile Blu mi piace Blu mi piace Assolutamente Ok Ok Faccio così Vabbè Leo C'hai veramente Sei veramente Un fallito di merda Porco Sto per quittare Da sto gioco di merda Botti Inverti sto giro Porca puttana Non serve il cazzo Ok Ok Non ce l'ho più carte Per Bertha Sono un po' Sono un po' Tristolino Però va bene così Ok E ora vince Totta Perché tu hai fatto Sta puttanata Porca puttana Esco 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 Questa Ok 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 Questa la tengo Questa la tengo Mi piace Io metto Bertha Solo perché Tiltava Valissimo Assolutamente Corretto Ok Piasce 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 Gioco questa Vai Questa piace Questa bella Questa bella Ok Blu Blu Ok Mi ci prendo A me piace un rosso Rosso mi piace Blu Blu brutto Ma è palese Che ce l'abbia Eh era abbastanza scontato Perché Tu non hai detto uno Non hai detto uno Non hai detto uno Come che faccio E a destra ti appare uno Quando devi buttare la carta Che appareste uno Eh volevo buttarla E poi dire uno Eh no Puoi farlo prima Eh non lo sapevo però Che palle Non lo sapevo Ok Va bene questo qua A prezzo Ce la posso fare Ce la posso fare Hmm Hmm Bugatti con uno Dammi questa Dammi questa No Questa Questa posso giocarla Questa è bella Posso tenere il blu Posso tenere il blu Per un attimo Ah sto giro L'ha detto però Hmm Ok L'abbiamo perso Vabbè Porco Bro Leo ti amo Leo cazzo No giocheremo Leo Allora Leo ti amo Allora Avevo in mano Seriamente Seriamente Tu hai visto le mie carte? No No vabbè Vabbè Io avevo Io avevo in mano 2 più 4 E 2 più 2 Che ho giocato solo su Bertra Perché Perché avevo commesso 110 mila punti Su di te E ho fatto di tutto Per farti vincere Però ma te hai vinto Che assoluto fallito di merda A 165 mila Ho fatto la calciopoli Dell'uno Grazie Aspettate un secondo Che devo fare una roba Avevo commesso tutto su di te 110 mila punti Ok ragazzi Leonardo Bro È bannato Non può più giocare Pazzo di merda Mi sbanno C'è l'accesso Anche io Adesso ti tolgo l'accesso Non puoi Posso e come Porca troia Sto gioco di merda Cazzolini Totta Che eri qua anche tu Pino a 10 secondi fa Non lo so Mi fa ridere che tilt In realtà Compatisco la tua situazione Perché mi ci ritroverò Tra molto poco Comprendi la mia Contesta Ia Contesta Non ha contestato Allora ragazzi Un video è solo la chat Sopra c'ho Poli che sta giocando Alla pil Per coprire la nostra live Purtroppo è molto probabile Che ce l'abbia Anche perché gli interessa E non perché Vuole coprire la nostra live Era lì da prima L'ho usato per coprire Che fai Non lo copri No Perché avete girato Perché sempre Questo verde di merda Poi Oh A me piace più Giallo Giallo Meglio giallo Oh Giallo 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 No Abbiamo una buona giornata Brutto rosso Dai gli è Bottussi Brutto rosso No il Bottussi non vincerà raga Brutto rosso Ma sai che rosso Alla fine non era poi così male Berto Mi ho pescato mille Non importa Non importa Ok Voglio più carte possibili ora Verde Verde Ok Sorry Leo Va bene Va bene Berto è partito Ok ok Allora stai mettendo Non ne volevo dire il più possibile Altrimenti andavi a pescare Eh Non puoi pescare Si che puoi Si che puoi Io prima l'ho fatto Pescare anche se puoi mettere Certo io prima avevo i più 4 da giocare a totta Che pescavo piuttosto di darglieli Oh Gesù Cristo Wow wow Questa si è andata a polis Wow wow Oh dovete sma... Bot porca puttana sto cercando di aiutarti che cazzo fai? Cazzo di... Magari non gliel'hai spiegato bene sul chat GPT Eh si Fottuto Abitante di un paese dell'est asiatico Giapponese? Si Giapponese Ok Darnato Giappone l'hai fatto ancora una volta Leo ha insegnato tu alla mafia come agire Ah Dio Vai 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 Bro ma tu sei pazzo Vaffanculo Bro ma tu sei folle Lei ora butta un più due Lo sapevo Lo sapevo Meglio Meglio così Abbiamo un po' riassestato le sorti di questa partita Vaffanculo Bertra tu mi stai dando due carte Cercando di rallentarmi Invece mi dai due possibilità in più Di rendere questo content migliore Quindi ti ringrazio E ti ringrazio non facendoti giocare bastardo Wow Va bene L'accetto L'accetto È giusto e corretto Ok Ok Abbiamo ricominciato il gioco che facevate tu Bertra e io il bot Esatto praticamente Come on boys Come on boys Boys Ok 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 Quando vuoi gioco C'ha dei tempi molto dilatati il gioco quando pensa È vero È vero senza veramente troppo È in overthinking Dannazione devo pescare Dannazione sto pescando Dannazione continua a pescare Dannazione non si ferma Si è fermato Si è fermato Si è fermato Si è fermato Madonna dai Sta riflettendo Quanti cazzo di uno ci sono Ah Ah Vincendo davvero il bot No Ma che cu Allora Questa è vendetta Questa è la giusta vendetta Devo essere onesta Invertitemi il giro raga Dannato bot festoso Il bot festaiolo Guarda Oh Ok comprando Ok bot giallo Tiniamo il giallo Così il bot non ce l'ha Let's go Bravo Bertra Vedo che capisci tutto Mi dispiace Dovevo fare una scelta Si si Bertra è praticamente Il schiavo delle macchine Che è quello che Alla fine dell'umanità Punta la pistola E distrugge il macchinario Che poteva salvare tutti Probabile Comprensibile Ti sfido Mi dispiace Dannazione No comprando tranquillo Era l'unica che potevo Se no non l'avrei mai fatta Contro il mio bro Che mi ha fatto Porca puttana Ok In culati coglione Adesso gioca il più 4 Anche lui su totta Madonna raga Urlo 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 se lo fa Non si può fare Se non sbaglio Che puoi Il più 4 sul più 4 poi Ah si è legale Vabbè Ha perso la sfida Ricordo sempre Il post su twitter Di uno Dove uno Le va chiesto Ma posso giocare il più 4 Sul più 4 E l'account twitter ufficiale Di uno ha scritto No non puoi Però nelle regole C'è scritto che puoi Quindi nemmeno uno Sa come si gioca uno Dai si Emozionante Ho toccato i nomi Beh Ah è corretto Oh Mi piace Mi piace Beh vorrei poter proseguire Questo Simpatico gioco Tra amici Però non posso Ora vediamo se l'alleanza Bot Bertra va avanti O se il bot decide Di usare la violenza Ha usato la violenza Ha usato la violenza Bot goes a tu Dov'è che va? Popi popi Interessante questa Questa è stata la strategia Bertra Non vedevo giocare Un divieto rosso Dai campionati regionali Del 91 Mossa audace La tua Molto audace Oh Tutta procede A scegliere il colore Grazie mille Bertra Effettivamente Ma che tipo di colore? Quello peggiore In assoluto Compre Oh no Eh sì Vai Spero che c'hai il rimbalzino Assolutamente no bro Bannazione Oh no Minchia se avessi avuto il più due belle No Oh Di nuovo Leo? No no Non c'è la storia Ok no minchia se no ero tipo Wey Prato Wey Ma che bellina Dai Roma Ma no 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 Potevi giocare una carta di pescato? Sì Che cogliona Eh ma stai buildando la tua strategia in realtà Tott è quello? Sì 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 Sta buildando un castello di carte più grande del mondo No Io da piccolo ero infoiatissimo Ah io salto Sei Da piccolo io ero infoiatissimo con i castelli di carte A livelli fuori di testa E ho fatto il mio record in seconda media Con un castello di carte di 13 piani La madonna Sì ero arrivato all'ultimo che lo stavo mettendo per niente alla mia altezza Il bro non tocca l'erba No no ero infoiatissimo ma proprio Mi piacevano tantissimo Leo cosa farà ora Leo? Dimmi un numero Quattro Ok Mi avrebbe fatto ridere il più quattro Quattro Blop Allora Totta questo tuo fetish per in giallo deve terminare Bro tutte le carte che non hai tu gialle le ho io Ecco e io dico questo Dimmi un altro numero Tre? Ok Grazie mille Oh porca troia Basta Mi puoi chiedere un numero? Eh no stavolta stavolta te ne do io Aia Stavolta mi spiace il numero ho dovuto darlo io Hai dato i numeri Dai bot Maleducato Bastardo Pezzi di merda Scusa Totta me l'hanno fatto fare loro Non volevo io Totta ora mi tira un più sedici Totta non parla Totta deve pescare In che senso devi pescare con 19 carte Hai deciso di tenerti la carta lì In chi ha? Totta penso che ti sei mutata No no Totta perché non parli Perché continuo a pescare? Mi piace quando le carte diventano 4 mazzetti 5 mazzetti Oh diventato blu Totta? Eh dimmi Cosa stai facendo? Niente perché? Totta sta compedando il Pokedex Nooo Cigli invece Ecco Bertra Però bot Grazie Nicola per il Prime Beh tanto non è che devo dire Pensavo che stessi chiamando il bot Nicola Che ha fatto la reverse su di te Grazie Nicola Copium Poderoso Copium Vado a più 6 Livedo le carte No sono 5 Per adesso lascio così Comprensibile Ti sei salvato per questa volta Bertra Dannazione Perché continuo a pescare Totta? Totta ha deciso che basta Lei finisce il mazzo Usa la regola di Yu-Gi-Oh Se finisce il mazzo perdi Giusto è vero Quattro carte di Bertra Bertra cosa potrebbe giocare? Conosco lo stile di gioco di Bertra Bertra gli piace tantissimo giocare Il salto al turno Quindi è probabile che L'abbia tenuto lì In caso Un salto al turno Verde Uh L'hai messa in combo con la mia Nice Oddio la Uuuuh Vabbè dai Uuuuh Abbastanza Se tornava indietro Ok Bertra Ha giocato carte verdi Ha dovuto cambiare colore Quindi Bertra le carte verdi Non ce l'ha È tendente al rosso Però non è una strategia Che proprio Potrebbe tenerli Però il 6 Il 6 Il numero dell'amore Per Bertra Leo sta facendo Le stratte mentali Fortissime No non sono felice Non sono soddisfatta Oddio Totta Ti prego Oh Gesù Bot Allora te l'ho detto Bertra non ha il verde Quindi se puoi tenere Su quel colore là Ti sarai molto grato Neanche il bot Ce l'ha a quanto pare No Decisa No Ok Il bot è alleato Bot è alleato Fortissimo Bot all'Aid Oh oh Adesso si è andata a poliz Ma Su 29 carte Non hai un più 2 Bro Non hai idea Se si poteva mandare In combo su Bertra Che su 12 Probabilmente Anche l'IA ce l'aveva Arrivava Bertra Un bel più 6 Sì infatti È vermo Ridistribuito Il bilancio I bilanci dell'anno Stai facendo Totta Oh oh Da Susanna Da poliz Stavi a sti momento Stavi cercando questo Da mezz'ora Vero? No Che cazzo Gesù Basta Per 3 Non gioca più 7 7 Non ce l'ho Non ce l'ho Peccato Ah Unlucky Unlucky Madonna Totta Perché hai iniziato A prendere le carte? Perché volevo solo fare Un più 4 Un più 4 Sperando che qualcun altro Avesse un più 4 Per far arrivare a qualcuno Un più troppo carte Un più troppo Sono riuscito a far vincere Sì tutti Anche il bot Wow Nice Tu però 2 volte Io però 2 volte Cioè in realtà 3 Perché ho vinto personalmente Quando Totta ha vinto No non vale Non ce l'ho vinto nel gioco Ma ho vinto 65.000 punti La tattica di Totta Si potrebbe dire La Tottica La Tottica Wow Leo Abbiamo un neurone Che condividiamo Dai Non so far giocare a me Giocca a te Voglio far giocare a te Ma no dai Gioca a tu No Dai Gioca a tu Dai No Gioca a tu Robi i tempi comici No dai Leo Gioca a tu Porca puttana Gioca a tu Eh va bene Perché non posso più farlo Tu ne avevi altri No no Ok 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 Vivo nel terrore In questo momento Vivo nel Nel più grande No O come disse Willy Wonka Vivo nel torrone O come disse Pino Gaetano Vivo nel Nel ticinese Nel ticinese E che se l'ha trasferito Giusto Sì sì Ah accipicchia Aciderbolina amici Per Dindirindina Struzzo Non è una parolaccia Struzzo Ok 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 Tre come gli anni di Cristo Vero 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 C'è stato un attimo in cui Gesù aveva tre anni Quindi effettivamente Giustamente 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 Penso che li abbia avuti Effettivamente L'unico L'unico che poteva dire Non come gli anni di Cristo È stata totta quando prima ne aveva 34 Vero Vero Assolutamente vero Spooky Spooky gaming Dannazione Dovrò pescare le carte Oh grazie a Dio Ho pescato una sola carta Oh Dannazione Dovrò pescare le carte No Cristo Dio Dannazione Ho pescato le carte Vabbè Accetto questo Gameplay Avrebbe fatto troppo ridere Se avessi terpato un più quattro E poi il bot Un altro più quattro E poi io avrei pianto Tantissimo Effettivamente Ok niente Stavo per dire Bisogna far riprendere Un po' di carte a totta Ma quanto pare Ci ho pensato alla natura Grazie mille ragazzi Tranquilli Dannazione Dovrò pescare una carta Madonna Oh flashback Porco Niente parolacce Vertra L'hanno riscattato Porco non è una parolaccia Ok È tipo struzzo di prima Hai ragione Esatto Grazie Grace Porco il demonio Cane Ti giuro Se mette di nuovo Blu mi ammazzo Ok Ehi Ok 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 Mi piace questa tua tattica Allora Termini termici Vai Ia festoso No Ia festoso Ia Ok Ok Quando vuoi Passa il turno Grazie Gioco Grazie Scanta Per il secondo mese God Comprendo Allora Assolutamente corretto Allora Esco il suo punto di vista Condivisibile Assolutamente Non è sbagliato Abbiamo una buona giornata Ehi Oh oh Stato sando da polista Vai bot Bot Non andare Il bot è in panno Ah bot Stupido Gofo Oddio Ah bot Stupido Il ma Povero il bot Mi son cagata in mano Pertanto Mi son sensirli cagata In Lo spandalognes Ah Comprendo Assolutamente giusto Da parte sua Assolutamente corretto Ma io non avrei fatto Altrimenti E altri nasi invece Rosso anima Verde anima Madonna C'hai messo mezz'ora Si era in modalità nonna Con i nipoti Hop hop Fatta non ce l'ha al blu Oh Però al rosso Ti hai torto il cazzo Porca puttana You are now my Quattro E il quattro Ma porca di una troia Eh devo cambiarlo dal rosso Con un tre Ok Buona giornata Ti vendetta ve Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Si madonna Sembra No No Che cosa Leo Non ci sei it Che cosa Non ci sei it Non ho detto nulla Non ho detto niente Non so cosa Sembra una discarica Che prende qualsiasi rifiuto Corretto Si Un po' come Allora Leonardo Merdola che si prende il mio più due Che lo fa diventare un Più quattro Che lo fa diventare un Niente si prende Poraccio Il karma sincero Momento gaming Giro reverso Ok comprensibile assolutamente Corretto Ineguagliabile Ineguagliabile Oh che bello Pescare subito un sette blu Le rosse Bot bertrand non ha le rosse Cinque rosso Grazie Ma che cazzo Ma che cazzo Bro Clippate Clippate No 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 Questa cosa Fate la clip ragazzi Fate la clip Ma che cazzo Ragazzi clippate Ispontaneamente Questa cosa Fate la clip Sono il re Dello scripting Ma che cazzo Ma che cazzo Qualcuno faccia la La clip E la mandi subito In chat ora Grazie Ma che cazzo Tua madre Bot Tua madre fa le raspe Con i piedi Oh no Leo Eh no Leo Leo no Leo Leo no Leo ahimè Leo ahimè Sa controllare Il bot Ma non Se stesso Ah Portacci tua Però Cioè nel senso Qualcuno ha fatto Sta cazzo Di clip In chat Mandatela Se siete Sa potete Mandare il link Anche se siete Fatelo Però fatelo Per favore Date una mano A questi poveri ragazzi Che poi dovranno fare I tiktok Il cazzo di tiktok Di merda Leo dopo dobbiamo Distribuirci Tra parentesi I video Sì Dobbiamo rifarlo Poi Grazie che l'avete fatti Sì Ma è finita la settimana scorsa Sì No Io sì Io tutti Caricateli Così poi io oggi Li metti faccio Oh oh Adesso è andata a police Scusatemi ragazzi Questo è il mio anthem Di stasera Ebraio Tu sei VIP Quindi te Ma come no Ma infatti Un VIP dovrebbe potere Tantissimo È per quello che non vengono mai Mandate le nostre clip Ah Non puoi Ma Vabbè ma Mod VIP sì Sub no Ok VIP Tu che sei VIP Mandare clip Dovevo fare che i sub Possano mandare i link Eh infatti Adesso Adesso provo Spero che No non posso adesso Perché mi si smadonna tutto Eh sì poi perdi Cioè qua c'è il tryharding Quello Vado a fare al bot Che c'è tante carte Eh ah ok Ok l'ha mandata Yukin Grazie Yukin Ok perfetto Dopo Anzi Yukin Riesce a mandarla anche A me su telegram Così poi la estraggo Direttamente Chiamano surri Guarda quei suoi occhiali Bizzarri Poropop Poropop I suoi fatti Chiamano Sburri Perché le ho due carte In tutto ciò Non me ne ero accorto Grazie Yukin Quanto cazzo amo I furri Yeah Me li metto dentro Guarda Guarda quei baffetti Bizzarri Turututututututututututututu assolutamente ragionevole assolutamente ragionevole molto poco ragionevole sai che non mi è piaciuto questo tuo comportamento poerile eh lo so mi dispiace non volevo oh e invece tottussi totta manca di gialli corretto anche io lo penso così beh vedendo il suo punto di vista anche questo potrebbe essere un'opzione ah capisco bello e condivisibile fai un salto al turno scusa ho detto tardi ti passo un salto al turno se me lo rimetti grazie ok mi hai fatto eh si la leggiamo ok ok perfetto allora lo preferisci blu o giallo blu o giallo ok vai vai io vorrei che in qualche modo arrivi a me questa cosa capisco capisco ma devo dire che non apprezzo questo punto di vista neanche a me piace troppissimo questa cosa quindi lo passerei a totta di nuovo guarda io vi ringrazio però io accetto questa cosa perché evidentemente sono una persona più matura di voi lei ha appena detto aspetto lei ha appena detto spero che arrivi a me ok 4 comprensibile corretto ah capisco 4 ah ok per caso può no purtroppo no la finità che c'è tra me il bot cioè la vostra è proprio zero proprio zero non arriva neanche eh mal ci sta è una cosa un po' più profonda la vostra eh no se non potevo prima eh vabbè va bene però posso fare questo ok vabbè il blu il colore della Lazio della Roma lei è diventato uno zombie pigman per un attimo hai fatto un orco 2 comprendo molto e io uso il rosso il colore della Roma comprendo vorrei avere un giallo il colore della Roma è vero anche quello oh un 3 rosso il colore della Roma comprensibile ok understandable ma porca di una porca di una merda porca di una merda no 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 gioco di devi vedere anche il suo punto di vista capisci ok il colore della Roma a Berto visto che piaceva il rosso direi che lo rimetto io ti giuro su Dio che prima o poi prima o poi ah vuoi dire ah Bertra oh brava totta vai Bertra ok va bene totta va bene mi piace dannazione Bertra questo non è rosso ma ora cioè prima l'ho spregato tutti prima mo eh zì che ti devo dire cioè vabbè ti ho plup plup dai bot grazie pica visani per il prime sì sto qua a fare la combo Bertra gioca con totta e Leo con botta ahhh uscite moia è la seconda volta che facciamo sto giro parca di una merda se riusciamo a fare anche il quarto era era tanta roba Bertra ma non ho capito che mi sono perso un po' della partita totta sta cercando di riavere le carte come prima o sì sì allora non lo so però potrebbe non riesco a vedere le mie carte verdi raga non riesco a vedere le mie vabbè fanculo pipi 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 un po' matta questa mossa pipi un po' matta anche questa pipi grazie Rick Bean live ma raga tu toc eh non posso più giocare a questo gioco scusami totta la mamma non vuole comprando la mamma di chi la mia mi ha detto no no quella viene da Roma ah madonna che schifo effettivamente c'ha ragione tienile io spero che lei abbia un altro giallo ne ho finiti i gialli ragazzo mi spiace dovrò andare in magazzino a vedere se te ne trovo fammi vedere dannazione non ho trovato i gialli mi spiace ho solo questo non so se può interessarti totta sarei un bellissimo NPC totta totta oh no totta ha ricominciato la sua strata no 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 mi sono andata per la gloria per vedere le carte che aveva in mano sono tutte rosse guarda la snitch che gioca di beta game per dire le cose aperta va a fare in culo va bene va bene prendo questo metagame che non sarebbe tramite l'eregolamento va bene va bene ma se l'hai detto tu prima no 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 farei snitchare le carte qua e snitchare le carte l'hai detto tu prima ok comprensibile cambia una buona giornata non c'era al verde c'ho i rossi io ok ah come faccio io che ho gioco ai verdi a parte questa merda ah fax non posso più giocare a questo gioco mi spiace stavolta per davvero però ho un sacco di fortuna quindi va bene evidentemente anche io due 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 mi faccio andare nella mia pila di carte di colore verde ok anche se in realtà volendo potrei due un po' matta questa mossa due ho capito il gioco vediamo sette no berpa si assomiglia ma hai sbagliato ah scusa pensavo sette esatto quindi era sette si si no ah peccato oh no anch'io anch'io ho capito ho capito scusate sette non mi piace molto questo gioco non l'hai capito tre 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 si ah ok 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 tre 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 ok tre tre e sei è il doppio è il doppio è il doppio sei no 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 al bot non è piaciuto ok sei hai piaciuto al bot sei un nove no sei sei ok sei sei butta il dodici quattro no Roberta non hai capito un cazzo no scusatemi raga no 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 più due quindi quattro più due fa sei quattro più due fa sei esatto quindi mia madre oh oh ok quindi tre sei nove nove e poi uno uno no no hai sbagliato uno oh oh non mi piace questo botto non mi sta simpatico non apprezzo un momento oh oh no eh eh no Bertra vinto Bertra vinto poderoso urlo del sim madonna Bertra ma hai vinto precisamente alle 21 madonna precisione wow che momento emozionante Bertra io odio questo gioco ora farò il reso anche io l'odio abbastanza devo dire ah no tienilo che uno si può giocare in live madonna devo rientrare dei soldi che non ho riavuto di god simulator scusami ah no basta 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 c'è questa partita quanto l'hai pagato uno dieci euro cinque euro dieci dieci ok allora è giusto fai reso per l'anno l'indio ma donna l'indio ciao